Dico qua, guardate, accendete l'app se non ci credete, sulla sabbia, a Messina, mutano disinfettanti, sentite il rumore degli spruzzini, dovete accendere l'app, mi raccomando, guardateci in televisione, splendido mare, che tra l'altro sta roba finisce in mare e fa male, eh, cioè non... No, ma se ti conto te, cioè, scusami, ma voglio dire che chiunque vada sulla spiaggia sa che durante il giorno, alle 11, prova a camminare sull'anno. È impossibile, sono 60 gradi. E la sabbia raggiunga temperature da 70, 80, tipo come così, per andare.